Pietro mi ha appena chiesto che cos'è questa chitarra. È una chitarra molto particolare ed è anche di una persona molto speciale. Si vede sicuramente una chat, quindi le mie chitarre che faccio io, particolari nelle forme, nei contenuti. Abbinamento stanno pick-up, ponte. Pick-up avvolto P90 da Paolo Lardera, è un filo del trono a manico, però la cosa particolare è che qua c'è una firmetta che gli accordiani più affezionati riconosceranno il nome. È la chitarra di Oliver, adesso mi sa che lo saprà anche lui vedendo questo filmato. Lui no, i suoi figli sì, ma adesso lo sa, forse ha intuito qualcosa. Ciao Oliver!